Sorteggio che sorride al Napoli, all'Atalanta e alla Juve, urna per niente benevola all'Inter Cioè ragazzi, vi è tornato in questo nuovissimo video nel quale voglio parlarvi del sorteggio che si è tenuto a Monte Carlo e che ha deciso i prossimi gironi di Champions League, però per farlo vi invito a lasciare un mi piace e un commento poi vi consiglio di iscrivervi al canale e seguirmi su Instagram, link in descrizione L'Atalanta comunque, essendo quarta fascia, si sapeva avrebbe avuto un girone molto molto difficile e con almeno una big Ecco, la big è solamente una e si tratta del City di Guardiola che con ogni probabilità passerà il girone da primo e anche a mani basse Però poi ci sono due squadre oltre all'Atalanta, sempre lì sullo stesso più o meno livello e che si possono giocare il passaggio del turno come seconda Si tratta dello Shakhtar che sicuramente è una squadra ostica, soprattutto in trasferta e poi della Dinamo Zagabria Squadra che per me ragazzi, per me, almeno in terza fascia era la più abbordabile Ecco, il Napoli invece pesca il Liverpool, è difficilissima, forse una dei più difficili in prima fascia Ma poi Salisburgo e Genka che comunque sono due squadre assolutamente alla portata dei partenopei Che possono e devono questa volta passare per forza il girone Magari da secondi se non dovesse riuscire a superare il Liverpool, però lo devono passare per forza Ecco, ragazzi invece per l'Inter Molta, molta sfortuna, proprio come è capitato l'anno scorso Barcellona come prima e Borussia Dortmund come seconda Veramente tostissimo come girone ragazzi, veramente, veramente molto tosto Conte comunque è un mago a saper valorizzare i propri giocatori E a far conoscere ai propri giocatori i punti deboli degli avversari E per battere queste due formazioni che per me sono le favorite nei rispettivi campionati Bisognerà sfruttare proprio i punti deboli Ragazzi, vedremo, comunque per l'Inter è veramente, veramente tosta Proprio come è successo un anno fa quando ebbe nel girone Sempre il Barcellona, poi il Tottenham e in quel caso anche il PSV Eindhoven Vi ricordo, campione d'Olanda Bel girone ragazzi, il bel girone è quello della Juve, sarà molto interessante Ci potrebbe essere la rivincita della Red de Madrid sui bianconeri Oppure ancora lo stradominio juventino sui madrileni Poi c'è il Bayern Leverkusen e per finire il Lokomotiv Mosca Che ha da poco accolto a braccia aperte João Mario in uscita dall'Inter Bellissimo girone invece, quello che vedrà scontrarsi Chelsea, Ajax, Valencia e Lille Per me il girone è più bello e equilibrato Con squadre che giocano benissimo a calcio Bello ragazzi anche l'accoppiamento Paris Saint Germain Real Madrid e Tottenham Bayern Mora Comunque squadre molto molto belle E ne vedremo sicuramente le belle in questa Champions League Che se comincia così ragazzi Al girone Se il buongiorno si vede al mattino Sarà la Champions League straordinaria Il video finisce qui Vi ringrazio la visione Ricordo di poter lasciare un mi piace, un commento Un'iscrizione al canale Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti